Nel giorno in cui gli italiani festeggiano la liberazione, i volontari del Centro Fauna Selvatica e il Pettirosso contribuiscono alle celebrazioni con un'iniziativa tutta speciale. Fanno tornare liberi di volare in cielo gli uccellini strappati ai bracconieri. Tutti gli anni anche nelle valli bresciane, dove noi a fianco del Corpo Forestale dello Stato, Nucleo Operativo Antibraconaggio, è da vent'anni che diamo supporto per contrastare appunto questo fenomeno del bracconaggio e ancora molto vivo in Italia. Questi sono tutti appunto stati presi dove c'era presenza di reti, trappole o altro. 200 uccellini di varie specie che hanno preso il volo al Parco della Resistenza davanti a una folla entusiasta. Vi è piaciuto? Sì, moltissimo. Sono belli gli uccellini quando volano via? E alla mamma è piaciuto? Molto. Una bella festa. Molto, molto. Molto, molto bello. La liberazione degli uccellini a te è piaciuta Susi? Sì. E a te sono piaciuti gli uccellini? Sì. Molto? Sì. Cos'hai visto oggi? I uccellini! E sono scappati via? Sì.